Ciao a tutti da Poderac, in questo video andiamo a capire il funzionamento dei pulsanti con Arduino Allora, i componenti necessari per questo progetto sono una scheda Arduino, un diodo LED con la sua corrispettiva resistenza un pulsante 10kOhm, una resistenza di 10kOhm e poi una breadboard e qualche filo connettore Allora, il funzionamento del pulsante, per capirlo, è come l'interruttore di una luce soltanto che gli interruttori mantengono il proprio stato, per esempio gli switch e cose del genere mentre il pulsante è come se al suo interno avesse una molla, ed è così infatti che però, diciamo, una volta premuto il pulsante, questo pulsante ritorna al suo stato precedente quindi se io clicco, la molla me lo fa ritornare allo stato precedente Il montaggio del circuito è quanto segue? Allora, per prima cosa la parte larga del pulsante lo andremo a inserire nella parte centrale della breadboard, in questo modo Per poi, al piedino sinistro o destro, inserirci una resistenza da 10kOhm Perché ho detto sinistro o destro? In quanto potete fare la stessa cosa di quello che sto facendo io, al contrario però dovete invertire tutti i fili e diciamo, non è che invertite solo metà del circuito che sto montando adesso Se dovete invertire, dovete invertire tutto Poi, nel piedino destro, ci attacchiamo un bel filo rosso e lo colleghiamo al più in questo modo al piedino destro mentre, all'estremità sinistra della resistenza andiamo a collegare un filo che va al meno in questo modo Poi prendiamo il nostro Arduino andiamo a collegarci nella fila dei fori dove abbiamo collegato la resistenza all'estremità destra della resistenza andiamo a collegarci un filo che va a un pin di Arduino io lo vado a mettere nel pin 2 Fatto questo, non dobbiamo dimenticarci dell'alimentazione altrimenti il circuito esce tutto buggato quindi GND mettiamo massa quindi nel meno e poi 5V dovrebbe essere questo 5V lo andiamo a collegare al più Fatto questo abbiamo il nostro bel circuito pronto adesso quello che dovremmo fare è collegarlo al PC e realizzare la parte software per quanto riguarda il led non lo andremo a collegare in questa parte di video lo andremo a vedere nel video successivo in quanto per adesso vedremo i dati raccolti dall'Arduino che andranno a visualizzarti sul PC tramite la funzione serial monitor che abbiamo visto nella lezione precedente quindi adesso colleghiamo l'Arduino al PC allora scriviamo subito la prima parte inerente al battesimo dei componenti quindi andiamo a scrivere int pulsante e nel pin 2 quindi scriveremo pin pulsante int pulsante e nel pin 2 quindi pulsante uguale a 2 poi ci servirà una variabile adesso sicuramente non capirete a cosa serve questa variabile o forse si se avete qualche esperienza comunque quella variabile ci servirà per contenere il valore del pulsante che può essere 1 0 in quanto digitale poi andremo a scrivere void setup per dire se il nostro pulsante setup per dire se il nostro pulsante è input o output essendo diciamo che inviadati dal nostro arduino è un input quindi scriveremo pulsante input poi attiviamo il serial monitor quindi serial punto begin 9600 se non capite il motivo andate a vedere il tutorial precedente a questo in cui spiego il funzionamento del serial monitor poi cosa manca il void loop il ciclo che si ripete vediamo già da subito in modo tale che non ci dimentichiamo adesso cosa dobbiamo fare utilizzeremo una nuova stringa di codice chiamato digital read pulsante che cosa fa questo digital read digital read legge il valore del pulsante che può essere 1 0 e tramite questa funzione abbiamo la possibilità di raccogliere questi valori però questi valori non li possiamo mettere in questo modo nel senso li dobbiamo inserire in una scatola per questo utilizzeremo la variabile val che sarà la nostra scatola in cui andremo a inserire il valore del digital read quindi scriveremo val uguale il valore di digital read del pulsante fatto ciò utilizziamo il serial monitor per vedere quanto detto serial print ln val vi ricordo che serial print ln mi stampa sul serial monitor tutti i valori letti da val e inseriamo un bel delay di un secondo vi ricordo che il delay lavora in millisecondi quindi un secondo mille carichiamo tutto sulla nostra scheda arduino e successivamente andremo a vedere i valori letti dal nostro pulsante perfetto ora che il codice è stato caricato andiamo ad aprire il serial monitor e vediamo i valori letti dato che il pulsante è in stato di riposo nel senso che io non lo sto toccando non lo sto cliccando i valori letti sarà sempre 0000 adesso io provo a premere ora come vedete i valori 111 mollo 0000 in questo modo abbiamo capito il funzionamento del pulsante in quali ambiti lo possiamo utilizzare beh lo vedremo nei prossimi video comunque per esempio ci può servire come interruttore oppure per accendere un led per realizzare non so un circuito che deve essere avviato con un pulsante cose di questo genere detto questo il tutorial di oggi termina qui spero che vi sia piaciuto lasciate un bel like se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale vi ricordo che mi potete seguire su facebook twitter google plus e noi ci vediamo al prossimo video grazie